Nel mio lavoro di montatore d'ascensori ogni mossa deve essere corretta. In questo modo sono preparato al meglio e posso muovermi in sicurezza sul posto di lavoro. Imparo i processi di lavoro passo dopo passo durante la mia introduzione al Lift Camp. Così so già cosa dovrò prestare attenzione in seguito, fino al più piccolo dettaglio. Già, nel Lift Camp mi viene richiesto di lavorare in modo indipendente per poter affrontare qualsiasi sfida in futuro. Con occhi vigili mi è permesso di imparare, di approfondire la mia formazione e di prepararmi per i miei compiti futuri. Vuoi farne parte? Fai il passo e inizia la tua carriera nell'installazione di ascensori.